E allora come sempre apriamo la puntata con l'oroscopo musicale di Silvia Pagni. Bentornati cari telespettatori all'oroscopo musicale. Sempre sotto i segni dei pesci a Milano nasceva un pianista, cantante, attore e conduttore televisivo. L'oroscopo musicale Nasceva Johnny D'Orelli Figlio d'arte Nel 1948 va a vivere negli Stati Uniti dove il padre Aurelio Guidi, tenore con lo pseudonimo di Nino D'Orelli, si era trasferito. Studia il contrabbasso e il pianoforte alla Age School of Music and Art di New York e si fa notare in concorsi televisivi per giovani talenti, dove si esibisce con il nome d'arte Johnny D'Orelli, il cognome d'Aurelio storpiato dagli statunitensi. Esordisce nel 1951 a 14 anni con il 78 giri a Rotino e Famme D'Urmì, per la voce del padrone. Rientra in Italia nel 1955 e viene messo sotto contratto dalla CGD di Teddy Reno, per la quale incide i primi 78 giri, cover di brani statunitensi. D'Orelli si impose con uno stile raffinato ed elegante, uno stile che si ispirava al modello americano del crooner. Avevamo degli stili in Italia come Teddy Reno, Natalino Otto e Bruno Martino. Il primo suo successo fu nel 1956 con il brano Calypso Melody, inserita nella colonna sonora del film Totò, Peppino, Le Fanatiche, in cui D'Orelli aveva una piccola particina. Altre famose canzoni del repertorio di D'Orelli sono Piccolissima Serenata, Refrain, Concerto d'autunno e Non ti vedo. Reduce dalla gavetta d'oltre oceano, D'Orelli inizia come pianista jazz. In seguito si dedicherà come autore in alcune trasmissioni televisive dell'epoca, come Gianni 7, Gianni Sera e Senza Rete. Nel 1957 fu scelto dalla RAI per prendere parte, insieme a Nuccia Bongiovanni, al musichiere di Mario Riva, ma fu sostituito dopo tre puntate da Paolo Baciglieri. Gianni D'Orelli dal 1958 partecipa a ben nove festival di Sanremo, arrivando ben otto volte alla finale. D'Orelli è, insieme a Domenico Modugno, Nilla Pizzi e Nicola Di Bari, ad aver vinto due festival consecutivi. Come abbiamo ben detto prima, lui debutta al festival di Sanremo nel 1958 con Domenico Modugno e vince con il brano Nel Blu, dipinto di blu. La coppia Modugno e Gianni D'Orelli si ripresenta l'anno successivo al festival con il brano Piove e anche qui Vincono. Gianni D'Orelli partecipa come attore all'operetta La vedova allegra, qui conosce e si innamora di Katherine Spack. I brani più noti del duetto Katherine Spack e Gianni D'Orelli sono Non mi innamoro più e Una serata insieme a te. Presenta anche un programma d'eccellenza, canzonissima, con Raimondo Vianello e le gemelle Kessler. Dopo un periodo di crisi artistica, torna nel 1974 al grande successo con lo spettacolo teatrale Aggiungi un posto a tavola. Con lo spettacolo Accendiamo la lampada del 1979 incontra e si innamora della sua futura moglie Gloria Guida. Alcune curiosità, Gianni D'Orelli ha tre figli Gianluca, Gabriele e Gwendalina. Ha una particolarità, gli occhi di colore diverso, caratteristica chiamata eterocromia. Pensate, il suo personaggio Dorelli ha ispirato un famoso personaggio dei fumetti Walt Disney, Papere Nick. Una sua dichiarazione da crooner. Lo swing per me è un mondo a sé e penso che viverà per sempre. E così io vi saluto anche per oggi. Abbiamo terminato con l'oroscopo musicale. Vi abbraccio a tutti a domani. Ciao da me Silvia Pagni. Ciao. Ciao.